Gli infissi in alluminio sono cancerogeni? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e tra quasi 50 anni ci occupiamo di infissi per abitazioni private con sistema Bisacchi. Questa domanda, se gli infissi in alluminio sono cancerogeni, è una domanda che invece viene fatta spesso negli infissi in PVC, dove ci sono tante ricerche che dicono che sono cancerogeni e che dicono il contrario. Una smentisce l'altra, però diciamo che è un materiale che riserva ancora tanti dubbi e tante certezze. Riguardo all'alluminio è un materiale che invece è assolutamente sicuro, è usato da decenni nel campo dell'indirizzo, all'interno della casa, nell'alimentazione, nei contenitori per alimentazione, assolutamente sicuro e assolutamente riciclabile all'infinito. Il bello dell'alluminio è che è un metallo che come il ferro, come l'oro, come il rame o anche come il vetro per parlare di elementi che compongono la finestra, può essere riciclato per sempre. Quindi cosa vuol dire? Io prendo questo materiale, faccio una finestra, quando la finestra non è più buona, le rifondo quel materiale e ricreo un'altra finestra. Quindi è ecosostenibile per millenni, per sempre. E non è cancerogeno. Non c'è nessuna ricerca che dice che l'alluminio è cancerogeno. Mentre in altri materiali ci sono due fazioni, e io dico sempre che se c'è una domanda, probabilmente qualcosa di vero ci potrebbe essere, nell'alluminio non ci si pone nemmeno una domanda. Se tu hai fatto questa ricerca, probabilmente stai pensando di acquistare nuovi infissi. So quanto può essere complicata questa scelta, perché da più di 30 anni mi occupo nell'azienda di famiglia proprio di questo argomento. E per aiutare tutte le persone in giro per l'Italia che non possiamo servire come azienda, ho creato un servizio di consulenza con sistema Bisacchi. Puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. Ti chiarirò ancora meglio i dubbi sul tipo di materiale, sulla posa in opera, garanzie e sui preventivi che magari ti hanno già fatto. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!